Domani 28 dicembre sarà inaugurata all'Aurum la mostra d'arte del pittore poeta ucraino Volodmiri Predatko. La cultura è soprattutto una lunga storia di solidarietà, ha dichiarato il primo cittadino Carlo Masci questa mattina. Una storia di Natale che parla di ospitalità, ma con i colori e con i versi di chi conosce bene ha vissuto le vicende del Donbass per poi arrivare in Italia e in Abruzzo e cercare un po' di pace anche in seguito alla brutta malattia che lo ha colpito. Abbiamo ritenuto molto importante oltre che accogliere questo artista ucraino di 81 anni che è ospite presso l'hotel Amico a Città Sant'Angelo insieme alla sua famiglia anche di poter risvegliare quella che è una sua importante passione, un'attività perché questo Volodymyr, un artista ucraino, dipingeva e scriveva poesie. Si era un po' lasciato andare come è normale che sia per la situazione grave dovuta alla guerra, al fatto di essere dovuto scappare dalla sua patria a seguito appunto della guerra in corso e stando qui da noi in Abruzzo ha riscoperto questa sua passione. Con il cuore nel mio paese, certo, ma in Abruzzo sono stato accolto con la mia famiglia e qui posso curarmi. Due libri già pubblicati, un minuscolo schermo per il mio universo e la neve che non si scioglie. Volodymyr ha dipinto più di cento quadri, ma quelli che sono in corso d'opera oggi, dopo aver ritrovato un po' di calore, sono quelli che vuole presentare al suo nuovo pubblico.